Grazie a tutti. E di nuclei galattici attivi, ma oggi ho chiesto a Gabriele veramente di raccontarci la fisica di Interstellar, una cosa piuttosto difficile, ma sono sicura che ci entusiasmerà. E siccome poi inizierà il film e poi tutti ci capiremo, volevo davvero ringraziarvi, è stata una bellissima esperienza, voglio ringraziare tutti i miei colleghi che hanno contribuito a questo evento e a tutti voi che siete rimasti qui a resistere a tutte le nostre relazioni. Grazie. Non è la prima volta che parlo in pubblico, ovviamente quando vado ai congressi dovrei essere abituato, però trovarmi di fronte a una platea di quasi, anche considerando i vuoti, 6-700 persone non è usuale e credo che sia il mio record personale. Questo vuol dire che sono nervoso, emozionato, però commosso, commosso dall'interesse che avete dimostrato. E questo interesse, insomma, fa ben sperare per il futuro nel nostro circondario di Milano, Lombardia, Italia, quello che volete. E vi assicuro che se ci date dentro troverete riscontro al vostro interesse sotto forma di piacere, piacere che si dice intellettuale, ma non è intellettuale, è piacere, endorfine sparate a mille, capito? Quindi è un piacere, il piacere se ne uno è basta. E questo, questo evento è stato reso possibile soprattutto da una persona che è l'anima di questa manifestazione, che è Monica Colpi, a cui va tutto il nostro ringraziamento. Io comincio dall'inizio. Siamo a Berna nel 1907, era novembre anche allora, e siamo all'ufficio Brevetti, dove Einstein ancora lavorava, pur essendo due anni dopo la pubblicazione dei cinque famosissimi articoli del 1905. probabilmente era seduto su questa sedia, aveva come colleghi questi signori, tutti con i baffi, anche Einstein aveva i baffi, nessuno con la barba, ma era probabilmente tipico. E anni dopo Einstein stesso ricorda quel pomeriggio con delle parole caratteristiche. che dice, in quel periodo, in quel giorno, in quel pomeriggio, fui folgorato da un'idea. Folgorato dice, e penso che questa idea sia stato il mio pensiero più felice in tutta la mia vita. Lo dice Einstein, che di pensieri felici ne ha avuti parecchi. E qual è questo pensiero più felice di Einstein? Cosa succede quando cado dal tetto? Mi sfracello, pensiamo noi, poveri mortali, che non capiamo niente. Invece, invece, per Einstein, questo è stato sul serio il pensiero più felice, e tutto quello che vi dico nei prossimi cinque minuti o dieci, che è il frutto della nostra interpretazione, comprensione, eccetera, secondo me, è balenato nella mente di Einstein in un decimo di secondo. Einstein, in quel decimo di secondo, ha pensato, quando io cado dal tetto, e per lui c'erano i tetti, non c'erano i satelliti in orbita, queste cose, poteva fare un esempio, come per la relatività speciale, ha fatto l'esempio con i treni, abbastanza veloci, però non c'erano altri mezzi, qui, dice, il tetto. Io non sento la gravità. Quindi, è come se fluttuassi nel vuoto e non fossi soggetto a nessuna forza, eppure sto cadendo. E allora pensa, bestiale, questo è un modo per fregare la gravità, per non avere un moto accelerato. In realtà sono accelerato per l'osservatore che mi sta guardando dalla Terra, però io l'accelerazione non la sento. Quindi, deve valere la relatività speciale. Quindi, se sono nella stanza senza pareti, fluttuando nel vuoto, quello che a me sembra vuoto lontano da tutte le cose, o il laserino, anche se il laserino sarà inventato molto dopo, grazie a Einstein stesso nel 1917, accendo il laserino e la luce va dritta. Però, in realtà, per un osservatore sulla Terra, che guarda col binocolino, e guarda e vede questa stanza che cade, il raggio di luce non può andare dritto. Perché se va dritto per l'osservatore dentro la stanza, va a impiantarsi ad una certa altezza della stanza stessa, che durante la propagazione della luce non occupa allo stesso posto, è andata in giù. E quindi, la traiettoria di questo raggio di luce deve essere curva. Curva. Il decimo di secondo. Ma, siccome noi misuriamo lo spazio attraverso le geodetiche, attraverso quello che fa la luce in questo spazio, allora lo spazio deve essere curvo. E che cos'è che curva lo spazio, in questo caso? E non è nient'altro che la gravità. Quindi la gravità curva lo spazio. Quindi cominciamo a capire che aveva qualche ragione a pensare che questo era il pensiero più felice. È stato l'inizio del tragitto che ha portato Einstein a scoprire le leggi della relatività generale. Lo spazio è curvo, quindi la luce, quando si propaga, deve seguire una traiettoria curva. I pianeti, in questo modo, come avete visto due minuti fa, hanno orbite ellittiche, perché seguono questa curvatura, la luce anche lei, avete visto le immagini delle lenti gravitazionali spettacolari, e ovviamente Einstein nel 1907 non è il progetto del buco nero, ce l'abbiamo noi adesso, ma sicuramente, se avessi saputo avrebbe pensato subito qual è il posto dove la gravità è più grande e dove la curvatura è più forte, sicuramente nei prezzi di buchi neri. Ora, il buco nero è un buco ed è nero, e se andate a casa e vi chiedono, ma sei andato da due giorni, allora hai parlato, hai sentito, che cosa rispondete a una persona che non ha, diciamo che, terza liceo scientifico, non so, ma non ha ancora delle nozioni, e ha sentito però vagamente parlare di buchi neri. Dite questo, sapete che la gravità è il prodotto delle due masse diviso la distanza al quadrato, se noi siamo sulla Terra, abbiamo una distanza dal centro della Terra di 6500 chilometri, e quindi, quando lanciamo un sasso, cosa fa il sasso? Va in su e poi torna giù. Se lo lanciamo più veloce, però, va più in su e poi torna giù. Se siamo del campione mondiale di lancio del peso, e lanciamo il sasso con una velocità iniziale di 11 chilometri al secondo, il sasso non torna più giù. E per forza di cose, chiamiamo questa velocità, velocità di fuga, perché il sasso non va più. Quello che succede è che il sasso lavora contro il campo, sta rallentando, sta rallentando, rallenta, 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 ma a un certo punto si trova abbastanza lontano dalla Terra per risentire meno della forza gravitazionale. E quindi, con questa velocità, riesce a fuggire in una zona dello spazio dove ha rallentato tanto, pur tuttavia, anche la gravità è molto minore, e non tornerà mai più. Cosa succede se la Terra, la comprimiamo, tutta la massa della Terra, la comprimiamo in un raggio di 65 chilometri. Ebbè, potete bene immaginare che la velocità iniziale che dobbiamo dare il sasso perché non venga più giù, sarà di più. No? La gravità è di più. La gravità è di più perché la massa è uguale da quella della Terra. La massa del sasso è la stessa di prima, però la distanza dal centro della Terra è molto meno. Quindi la forza di gravità è molto di più. La velocità che dovete imprimere al sasso è 110 chilometri al secondo. Ora, se fate della Terra una biglia di circa un centimetro di raggio, un centimetro e mezzo di diametro, più o meno, la velocità che dovete imprimere al sasso perché non torni più giù diventa la velocità della luce. Quindi, se è un centimetro o meno un epsilon, neanche la luce può uscire. Questa è l'idea che aveva avuto anche Laplace e un inglese di cui non mi ricordo il nome adesso per spiegare, ipotizzare, predire l'esistenza di stelle invisibili che non potevano emettere luce. E parlo del 1800 circa. Questa spiegazione che date al vostro amico è sicuramente soddisfacente perché soddisfa un bisogno di curiosità, è quasi giusta. Ma non è completamente giusta. Perché in questo caso la Terra così piccola sarebbe diventata un buco nero, ma la luce riuscirebbe a uscire. Se voi siete qua, è abbastanza veloci, prendete il raggio di luce e avete informazione dell'interno prima che la luce ricada. Questo non è possibile, non è vero. Quindi ci deve essere qualcosa di sbagliato in questa immagine. Adesso io vi offro un'altra immagine. È un'analogia. Come tutte le analogie va presa con le pinze, ma probabilmente si avvicina più al fatto reale di questa. L'analogia è una scala mobile. Qui, verso il basso della scala mobile, c'è il buco nero. La scala mobile ha i gradini che vanno verso il basso. La velocità con cui i gradini si muovono è molto alta, se qui c'è un buco nero. Se il buco nero è qua, la velocità dei gradini è la velocità della luce. La scala mobile sta a simboleggiare lo spazio che si muove e viene in qualche modo ingoiato dal buco nero. La luce, poverina, cosa fa? Cerca di andare contro corrente. Ma se la scala mobile si muove, se lo spazio sta muovendo verso il basso alla velocità della luce, la luce non può che rimanere lì. Viene imprigionata. Non c'è il capino della luce che supera l'orizzonte degli eventi e può venire osservato. Neanche la luce può sfuggire. La domanda che viene subito a me e a tutti voi, eccetera, ma doveva finire? Qui finisce l'analogia e quello che posso dirvi io. Non lo so doveva finire. Il Sole, se diventasse un buco nero, avrebbe un raggio di non ritorno, una superficie di non ritorno che ha un raggio di tre chilometri. E che cosa succede se noi pensiamo di andare su un'astronave ad esplorare le regioni vicino alla superficie di non ritorno? E che cosa succede per un osservatore fuori che guarda questa astronave viaggiare? Beh, all'inizio la vede andare normalmente, poi, mentre si avvicina, la vede rallentare, il segnale di SOS, Mayday, Mayday, viene percepito fino a un attimo prima del raggiungimento del raggio di non ritorno e poi non vedete più niente e non sentite più niente. I raggi di luce non vi raggiungono. la vedete però rallentare. Se voi siete invece dentro l'astronave, quello che succede è che andate dentro il buco nero senza ne ha ne va, immediatamente. Passate la superficie di non ritorno, non ce n'è che rallentate, anzi accelerate di bestia e siete ingoiati dal buco nero. C'è una differenza fondamentale tra i tempi che vengono misurati dall'osservatore lontano e dai tempi misurati dall'osservatore dentro l'astronave. Perché? In generale, perché è vero, nell'esperimento con la camera chiusa, eccetera, invece di puntare il laserino orizzontalmente, proviamo a puntarlo verso la Terra e la frequenza vista dall'osservatore in caduta libera, lui non sa di niente, la frequenza che deve misurare lui è sempre la stessa di quando l'ha misurata sempre. se il laserino funziona con la riga, una riga spettrale di transizione, questa è dove deve essere, è quella normale. Ma che cosa vede uno sulla Terra? Beh, vede un laserino in moto, quindi vedrà un blue sheet. Quindi il raggio di luce porta un'informazione di una frequenza più grande. Vale il contrario, è simmetrica la cosa. Se io sono sulla Terra e mando su il laserino, l'osservatore che sta su vede una frequenza più piccola. Quindi se io ho la lampadina blu l'osservatore lassù la vede rossa e se lassù ho la lampadina rossa l'osservatore giù vede una luce blu. Pacifico, no? è come se la luce guadagnasse energia frequenza e energia sono più o meno la stessa cosa è come se la luce guadagnasse energia invece di un sasso che cade che guadagna energia cinetica la luce guadagna in frequenza e in energia e invece quando la luce va in su perde un po' di energia e diventa più rossa. E questo fatto che è scritto nell'equazione della relatività generale è stato sperimentato provato come vi ha detto ieri Sassi Pound e Rebka Pound è quello che stava sopra Rebka è quello che stava sotto l'istituto di Harvard erano a una distanza verticale di 22 metri 6,6 Rebka sembra più vecchio però è lo studente di Pound e loro con un esperimento molto sofisticato e all'avanguardia per quei tempi che sfruttava una cosa appena scoperta che era l'effetto Mossbauer di cui vi ho parlato ieri Sassi misurano questo effetto di Reshift e Blue Shift gravitazionale che si dimostra in accordo con la relatività generale quindi questo è stato provato non è una roba che può però magari è stato succede la spiegazione la data Einstein si può discutere se è la spiegazione giusta ma il fatto c'è ma che cos'è la frequenza come si misura una frequenza si misura in giri al secondo misura in ciclis misura in hertz che vuol dire ciclo al secondo è la misura di quanto un fenomeno si ripete perché avete una cosa ciclica una cosa l'orologio fa dei ticchetti eccetera quanti ne fa al secondo quanti ne fa in un'ora però per fare questo per esempio avete bisogno di un pendolo quindi quello che misurate in realtà è la oscillazione di qualcosa che si muove stessa cosa con un'altalena ma quindi cosa vuol dire che la frequenza di un pendolo è più grande o più piccola vuol dire che il pendolo oscillerà più velocemente o meno velocemente vuol dire quindi che vedere delle frequenze che cambiano è equivalente a vedere dei tempi che cambiano quindi un orologio qua e un orologio qua non segnano allo stesso tempo questo qui è più veloce di questo il campione mondiale umano di questo effetto è un astronauta russo che è stato più di 800 giorni in orbita quindi a più di 400 chilometri di altezza andando molto forte eccetera che ha accumulato un maggior tempo perché lì il tempo va più veloce sopra perché è più lontano non è nel campo gravitazionale uguale al nostro di ben un quarantottesimo di secondo è più vecchio di un quarantottesimo di secondo questa qui è quello che ho potuto fare perché non ho trovato l'immagine degli orologi quindi ho fatto l'animazione sopra la pallina va più forte quello lì è un pendolino che va più forte di questo qua quindi quando noi andiamo su un'astronave siamo visti da un osservatore esterno quello che vediamo è che l'astronave piano piano anche lei è un orologio perché è qualcosa che si muove piano piano rallenta 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 fino a fermarsi sull'orizzonte degli eventi da qui la spiegazione un'ora sul pianeta di Miller equivale a sette anni sulla Terra in Interstellar che immagino che l'abbiate visto in gran parte il film di Già ma questa la spiegazione in questo concetto provato il pianeta di Miller era il primo che loro vanno a la cosa interessante anche però è il contrario per voi che siete sull'astronave e guardate di fuori vedete tutti i film che vi mandano come dei film di Ridolini in cui tutti i personaggi si muovono in maniera parossistica se vi mandano un telegiornale al giorno al giorno vuol dire per noi lontani li vedete tutti in due minuti vedete la vera fine del berlusconismo il superamento di Renzi e la sinistra del PD che non litiga più con l'altra parte e che cosa succede se riusciste a fermarvi proprio all'orizzonte degli eventi per un buco nero che non ruota questo non è possibile perché non è possibile stare lì senza fare niente avete la scala mobile che per qualunque velocità abbiate vi porta vi porta giù non è possibile ma se il buco nero ruota ma se il buco nero ruota anche senza fare niente potete stare lì nei pressi il che vuol dire avete un cancro lo scoprite domani non c'è la cura non la vostra sorte è segnata quello che potete fare è prendere l'astronave andare su un buco nero passarci un mese meglio prendere un'astronave potente meglio andare su un buco nero ruotante perché è più facile scapparci e forse tornate tornate sulla terra sono passati 500 anni sicuramente hanno trovato la cura per voi se riuscite a beccare un buco nero vicino il più vicino dovrebbe essere a 300 circa anni luce non è così tanto voi ridete però per un'astronave che va quasi alla velocità della luce il tempo di viaggio tra qui e il buco nero più vicino può essere piccolo piacere per la luce per una cosa materiale ovviamente non può andare alla velocità della luce però ci si può avvicinare il problema non è quello il problema è che se trovate un granello di polvere da qualche microgrammo e vi colpisce esplodete ha un'energia incredibile un'ora uguale a 7 anni adesso facciamo un salto molto grande nel tempo siamo in California siamo nel maggio 1985 e la figlia di Kip Thorne si sta per laureare ma non a Pasadena in California dove Kip Thorne lavora bensì a Santa Cruz però sempre in California allora questo provoca una riunione familiare tra Kip Thorne la ex moglie Linda e il figlio mi ricordo Bert e ci sono da Google Map circa 7 ore di viaggio in macchina lungo l'Interstate 5 questo lo dice Kip Thorne chi è Kip Thorne Kip Thorne è uno dei massimi guru della relatività generale è un cofondatore delle antenne gravitazionali interferometri di adesso è molto bravo è molto bravo anche a fare seminari ci sono delle conferenze pubbliche in rete guardatele perché ci sono anche quelle abbastanza comprensibili c'è Attilio Ferrari che sta cercando di portarlo a Torino per fare la conferenza su Interstellar però non so ancora se ci riuscirà o no quindi state all'occhio se magari passa per di qua e appena ricevuto un libro un manoscritto Kip Thorne dal suo amico Carl Sagan che è il romanziere che ha scritto vari libri di fantascienza lui aveva appena scritto finito di scrivere Contact e siccome i due erano amici Carl Sagan chiede a Kip Thorne di dargli un'occhiata per vedere se aveva scritto le stupidate o no e quindi lui in macchina visto che i suoi familiari erano abituati alle sue stranezze si mette a leggere il manoscritto e non parla con nessuno legge per sette ore non solo ma arrivato alla fine del romanzo e visto che gli mancava ancora un po' di strada a fare si mette a pensare e dice ma la protagonista del romanzo che poi sarà Giordi Foster nel film per raggiungere Vega la stella Vega passa attraverso un buco nero no buono attraverso un buco nero non si può la singolarità si sfraccella non si può meglio usare un wormhole dopo vediamo il wormhole però e Kipton lo sapeva era instabile neanche un raggio di luce può passare attraverso un wormhole perché il suo vecchio relatore che era John Archibald Wheeler un super guru di tutto un grandissimo è quello che ha coniato il termine black hole è quello che ha detto che the black hole has no hair che non ha capelli è quello che ha detto la materia dice allo spazio come curvarsi la curvatura dice la materia come muoversi eccetera è quello che ha come vedremo coniato il termine wormhole aveva dimostrato che erano instabili e quindi vivevano per se mai uno potesse farli avrebbero vissuto pochi e allora questo è Contact la curiosità è che beh c'è Jodie Foster come attrice principale ma l'attore in Contact è proprio Matthew McConaughey che è il protagonista di Interstellar lei è l'eroina del film che sta per entrare dentro una delle bocche due bocche della wormhole che gli farà raggiungere Vega adesso vediamo fra pochissimo che cos'è wormhole dovete sapere che l'idea di wormhole è vecchissima risale al 1916 da parte di Ludwig Flamme e nel 1936 viene trovato di nuovo da Einstein e Rosen per cui da allora si chiamano ponti queste cose ponti di Einstein Rosen oppure cunicoli spazio-temporali nell'articolo di Einstein e Rosen non c'è nessun riferimento né citazione a Flamme che è strano perché di solito dovrebbero vabbè nel 1957 John Wheeler li battezza wormhole perché capisce che sono un mezzo che un verme avrebbe per raggiungere l'altra faccia della mela senza passare dalla superficie quindi trova una scorciatoia wormhole vuol dire buco di verme e nel 1962 Wheeler come avevo detto dimostra che è impossibile attraversarlo perché è instabile e lungo il viaggio sull'Interstate 5 che torna che aveva ancora un paio d'ore di tempo tira fuori tre foglietti fa due conti e dice ma no non è assolutamente impossibile se io trovo un modo per stabilizzarlo allora sono attraversabili e questo modo per stabilizzarlo che trova è mettere dentro il cunicolo un po' di materia esotica a energia negativa che spinge invece di attirare quindi invece di avere una strozzatura che diventa sempre più sempre più piccola impedendo il passaggio ci mettete un po' di questa materia esotica e potete stabilizzarlo per un po' per far funzionare comunque un wormhole un ingrediente assolutamente necessario è l'iperspazio e che cos'è l'iperspazio? è uno spazio che ha più di tre dimensioni spaziali almeno quattro quindi in totale cinque quindi per farlo funzionare avete bisogno di cinque dimensioni una dimensione in più noi non siamo capaci di immaginarlo io non sono capace di scriverlo e quindi il trucco che di solito si impiega in questi casi è facciamo finta che il nostro universo che in realtà ha tre sia a due facciamo finta di essere quindi animaletti piatti che vivono su Flatlandia che è un universo a due dimensioni noi abbiamo la sinistra la destra il davanti il dietro non abbiamo il soprassotto noi tutti anche la luce non ha il soprassotto tutto è obbligato a essere in queste due dimensioni quindi questo è il nostro universo noi in realtà potremmo essere però delle formiche intelligentissime aver sviluppato la geometria non equilidea ed accoggersi che addirittura se il nostro universo è veramente così piatto o è curvo come la superficie della sfera di ieri basta tracciare un triangolo abbastanza grande su questa superficie misurare gli angoli e se è più di 180 è curvo in una maniera se è meno di 180 è curvo dall'altra e quindi già cominceremo a capire questa cosa questa cosa mi ha sempre impressionato perché è come se questi esseri e analogamente noi quando pensiamo alle quattro dimensioni che abbiamo un cervello a tre dimensioni riusciamo in qualche modo a uscire dal nostro cervello a pensare a qualche cosa che il cervello non riesce a immaginare se ci pensate è ben strano vabbè quindi queste formichine potrebbero dire qualche cosa e addirittura potrebbero sviluppare una o religione o fisica diciamo ah c'è l'iperspazio dove vivono questi esseri chiamati bulk beings in italiano loro nel film almeno è così in cui che vivono nella terza dimensione che ovviamente in questo caso siamo noi quindi noi saremmo gli dei di questo strano universo in queste tre dimensioni quanti universi possiamo avere tutti quelli che vogliamo no sono tutte fettine sono tutte pagine di libro in un spazio tridimensionale infinito in cui di universi ce ne possono essere tanti si può comunicare tra questi due universi o tre o quattro o cinque forse sì forse sì un modo per farlo sarebbe di usare la gravità non perché noi lo sappiamo non lo sappiamo eccetera ma perché ci sono teorie credo derivate dalla teoria delle stringhe che danno conto dell'estrema debolezza della gravità in confronto delle altre forze fa schifo la gravità e dice la 40 volte meno della forza elettromagnetica e il modo con cui lo spiegano è perché la gravità in realtà in questo esempio degli universi a due dimensioni la gravità percepita dagli esseri di Svetlandia ovviamente sarà su queste due dimensioni eccetera quindi probabilmente andrà come uno su R quelle robe lì non lo so però in realtà la gravità si estende anche nell'altra dimensione quindi è come se si diluesse e quindi dicono che non lo dico io eh leggo e riporto che la gravità è debole perché interessa anche la extra dimensione o le extra dimensioni spaziali va bene adesso noi che siamo questi dei delle tre dimensioni abbiamo il potere di prendere questo universo e di piegarlo a nostro piacimento quindi in questo universo avete Saturno piatto a dieci miliardi di anni luce avete Gargantua e un raggio di luce facendo la strada normale ci mette dieci miliardi di anni per andare da uno all'altro ok ma noi che possiamo tutto lo pieghiamo e facciamo nascere faccio la stessa cosa che succede nel video facciamo il buco facciamo un collegamento che è lungo pochissimo pochissimo sarà qualche centinaia di chilometri cioè nel film dura molto poco l'attraversamento del del wormhole per cui sarà qualche centinaia miliardi di chilometri non importa comunque niente in confronto a tutto il viaggio e abbiamo guadagnato dieci miliardi di anni questo non è impossibile non si sa a dirla tutta non si sa ancora come escluderlo si 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 sospetta che questo non sia possibile ma con la fisica che abbiamo non siamo ancora riusciti a escluderlo perché vi ho fatto Saturno perché nella trama originale che era stata scritta da Kip Thorne ma qui è forse meglio che vada avanti nella questa storia qua cioè Kip Thorne era amico di Carl Sagan Carl Sagan aveva fatto anche lui la sceneggiatura di Contact aveva chiesto a Kip Thorne una consulenza Kip Thorne a questo punto conosce una sceneggiatrice che è Linda Ops che lavorava nella Iscosa ai tempi poi si rompe col marito va in California tutte le notizie che ci sono nel libro quelle che ho capito sono quelle che ho capito di più si trasferisce in California per lavorare con le case cinematografiche di Hollywood che probabilmente pagavano di più quindi i due si incontrano come vi ho detto c'era la ex moglie quindi Kip Thorne era single tentano ma la chimica non funziona rimangono però amici Kip Thorne si risposa la sua nuova moglie e questa Linda diventano carissime amiche insomma si vedono a un certo punto nell'ottobre 2005 si chiedono ma perché non facciamo una sceneggiatura noi di un film di fantascienza non come quella boiata di Black Hole della Walt Disney dove fanno vedere delle cose che non non esistono proprio no? un film dove non ci sia nessuna boiata pazzesca ci possono essere tre categorie di cose le cose che sono già dimostrate essere vere nel senso che hanno passato i test eccetera come la differenza di tempo tra essere vicino a Black Hole o no gli educated guess che sono insomma delle ragionevoli assunzioni e predizioni o idee e speculazioni anche selvagge come il wormhole eccetera ma che non sono ancora state dimostrate essere false lui quindi fa la richiesta di che questo immaginario film che loro si inventano quando si trovano abbia queste tre caratteristiche non ci sia nessuna boiata pazzesca la Linda Hobbs è ben introdotta perché trova il regista l'anno dopo e che regista Steve Spielberg e Steve Spielberg dice sì si conoscono i due parlano lui è entusiasta della faccenda ma a seguito di questo a seguito dell'interessamento di Spielberg eccetera assumono Jonathan Nolan che è il fratello di Christopher Nolan come sceneggiatore e ci lavora per parecchio tempo però nel dopo dopo questo dopo 2009 cioè 2008 2009 Spielberg è costretto a rinunciare nel libro non c'è scritto perché c'è scritto soltanto perché ha dei dissidi con la casa cinematografica non li capisco perché Spielberg è un produttore quindi è suo quindi va bene trovano però il naturale regista oltre ad aver fatto Batman 1,2,3 eccetera hanno fatto Inception Christopher Nolan che è un altro grandissimo film sul tempo no è il fratello di Jonathan quindi la trama la sa già e Christopher Nolan dice aspettate un attimo che finisco il film che sto facendo e poi sono da voi e così nel nel 2013 cominciano la lavorazione del film il film come vedrete comincia con una catastrofe che sta succedendo sulla terra perché le 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 piante eh sono affette da una piaga che eh si sta progressivamente stendendo in tutto il mondo una delle poche coltivazioni che resiste è il mais quindi in America tutti sono diventati agricoltori tentando di salvare il salvabile eh la quantità di ossigeno nell'aria sta progressivamente riducendosi e nel film c'è scritto che ci sarà in pratica un altro 50-60 anni di possibilità e poi l'uomo si estinguerà ma in quel tempo improvvisamente dieci anni prima compare la bocca di un wormhole vicino Saturno nel film non c'è scritto non c'è non vi viene detto il perché il per come come abbiamo fatto eccetera nella prima sceneggiatura di di Kip Thorne c'è una bellissima dal suo punto di vista ragione per aver detettato questo wormhole con le antenne gravitazionali LIGO di cui Kip Thorne è un cofondatore quindi a metterlo dentro il film vedono un evento eccezionale un grandissimo segnale sanno la direzione riescono a individuare la direzione e vedono che è vicino Saturno ma a quel punto avendo la direzione sapendo che lì c'è qualcosa ed è dovuto probabilmente alla coalescenza di due stelle di neutroni vanno indietro nei dati per cercare se c'era qualche segnalino quando le due stelle di neutroni erano abbastanza vicine insomma un po' di onde e le trovano e riescono a trovare la direzione e la direzione è sempre nella direzione di Saturno anche se Saturno si muove nel cielo non è possibile che ci siano due stelle di neutroni là vicino a Saturno avremmo già trovate uno avrebbero distrutto Saturno due probabilmente tutto il sistema solare tre non è possibile l'unica e questa ovviamente è la scopo il professore del film eccetera nell'originale dopo è che quella sia la bocca di un wormhole che ci faccia vedere un evento lontanissimo distantissimo non c'entra niente è la bocca che è vicina a Saturno ma non le stelle di neutroni le stelle di neutroni sono su un'altra galassia Christopher Nolan dice keep too much drop it e Kip Thorne dice ha mal in cuore dice si hai ragione il film è già troppo denso di roba non diamo non facciamo questa storia però è bella comincia il viaggio non vi dico tutto non vi dico la trama del film e con l'astronave arrivano l'endurance credo che si chiami arrivano al wormhole lo attraversano ovviamente indenni e si trovano a 10 miliardi di anni luce di distanza vicino al buco nero centrale di un'altra galassia e attorno a questo buco nero grandissimo orbita un pianeta che si chiama pianeta di Miller dal nome dell'esploratore solitario che l'ha scoperto passando anche lui anni prima dentro il wormhole e mandando i segnali ricevuti alla NASA in clandestinità che ancora c'era sulla terra vedrete che è in clandestinità e ci vanno anche loro per vedere se è un pianeta adatto alla vita dove dove l'umanità può andare o alcuni precelti dell'umanità possono andare mica tutti questo buco nero ha una massa di 100 milioni di masse solari ed è massimamente rotante non è proprio massimamente per una parte su 10 alla 9 circa è massimamente meno una parte su 10 alla 9 anche questo è un'altra rionia della sorte Kip Thorne è stato quello che ha scoperto che la massima velocità di rotazione dei buchi dei rotanti corrisponde a un parametro insomma che invece di essere 1 che vuol dire massimo è 0,998 quasi il massimo per una ragione che oggi non vi dico ma la richiesta di Christopher Nolan è guarda che un'ora su quel pianeta deve corrispondere a 7 anni sulla Terra questo non è negoziabile pensaci tu la soluzione è mettere questo pianeta quasi a raggio gravitazionale di Gargantua e dotare Gargantua di una quindi di uno spin massimo soltanto così si può mettere qualche cosa a raggio gravitazionale soltanto se lo spin è massimo senza essere mangiati dal buco nero vai tutti contenti e però c'è il problema di rendere drammatico e fantastico cioè nel senso buono il film e come vedrete sul pianeta di Miller ci sono delle maree pazzesche la prima vostra che ho visto il film forse sarà la vostra prima reazione quando l'avete visto c'è la cosa stranissima dice vabbè ma c'è l'astronave che atterra su questo su questo pianeta e non ci sono le forze maree non si spaghettifica niente no tutto bene e oltretutto escono dall'astronave e camminano sull'acqua ma dai no è troppo è troppo questo questo non sarà vero no invece è vero se voi prendete un pianeta con un po' d'acqua lo mettete vicino a tal buco nero eccetera ovviamente per marea tutta l'acqua è concentrata ai due poli opposti rispetto al black hole siccome la forza è così tanta è chiaro che è tutta l'acqua che va lì lasciandone dei rimasugli per terra quindi il fatto che loro camminino sull'acqua quello stratterello sia così è ragionevole è tutta dentro la marea ma se la marea fosse come sulla terra perché è dovuta alla marea che si muove è dovuta alla rotazione della terra vuol dire che il pianeta sarebbe sottoposto continuamente a delle forze mareali che lo scalderebbero così tanto che lo spaccherebbero e non potrebbe esistere quindi lì Kip Thorne ha il problema di conciliare la marea che provoca delle onde da un chilometro e duecento metri di altezza è il fatto dell'esistenza stessa di questo pianeta ci riesce e dice ma no ma guarda che si fa semplicemente basta che il pianeta faccia così non dia sempre la stessa faccia verso il buco nero ma oscilli un pochino non tanto no tale da giustificare un'onda che si propaga per un po' no ma da non sviluppare una forza dovuta una calore dovuta alla forza mareale troppo grande quindi questo si può dopo varie peripezie che vedete giunge il momento topico del film in cui Matthew McConaughey l'attore principale del film va dentro Gargantua dentro il buco nero l'eroina la spara fuori per forza di azione e reazione e nel film vedrete che sembra il sacrificio estremo del comandante del pilota dell'astronave per salvare la compagna di viaggio invece è tutto stato programmato e dentro Gargantua avete nel viaggio di lui che cade dentro il buco nero avete delle immagini del disco di accrescimento attorno Gargantua eccezionali con una definizione eccezionale con una precisione eccezionale e con una correttezza eccezionale di immagini abbiamo appena vista anche la silhouette del buco nero come si prevede venga fuori dall'osservazione interferometrica radio eccetera però di solito perché noi siamo interessati a quello abbiamo l'immagine del disco di accrescimento intorno al buco nero come visto da un osservatore all'infinito ma non da uno che sta andando quasi alla velocità della luce dentro il buco nero che è vicinissimo e questo la simulazione di questa cosa è realistica Kip Thorna aveva la scelta se chiedere a due che conosceva che avevano fatto alcune equazioni per descrivere questo di collaborare al film ma lui decide no voglio fare io per puro divertimento mio e in tre settimane le fa le mette su matematica il programma e ottiene le prime simulazioni primitive come risoluzione ma le ha fatte lui dopo le dà all'istituto inglese specializzato nel fare le simulazioni al computer eccetera usano le stesse equazioni con potenza di calcolo enorme per avere la definizione necessaria ma sono vere ma il disco di accrescimento è anemico è molto meno il tasso di materia in questo buco nero è molto meno di quello che potrebbe sembrare ragionevole ma ancora una volta non è impossibile è strano ma non è impossibile e quindi si può e questo è ovviamente quello che dà luce calore ai pianeti che girano intorno al buco nero stesso invece della della radiazione stellare bene lui va dentro il buco nero gira e nei buchi neri che non girano la materia dovrebbe tutto concentrarsi nella cosiddetta singolarità che è un punto senza dimensioni dove tutto va all'infinito e la fisica sballa perché non è pronta a trattare gli infiniti e perché avete l'unione come è stato detto tante volte durante queste due giorni tra gravità fortissima e dimensioni piccolissime relatività generale meccanica quantistica noi non abbiamo le equazioni che collegano le due l'einstein stesso sapeva che la sua teoria era incompleta perché non prevedeva l'unione con la meccanica quantistica quindi noi non possiamo dire che cosa è successo nel big bang non possiamo dire che cosa succede nella singolarità di un buco nero però sappiamo che se il buco nero ruota la singolarità non è un punto ma è una linea un anello e il raggio di questo anello abbastanza comprensibilmente è tanto più grande quanto la rotazione è grande fino a diventare dell'ordine del raggio gravitazionale se il buco nero ruota alla massima velocità il raggio gravitazionale proprio coincide con l'orizzonte degli eventi sta per diventare nuda la singolarità ma quasi vabbè è un buco nero di questo tipo non si sa e allora vale tutto se non si sa le più grandi speculazioni valgono ci sono gli dei della quinta dimensione cioè questi esseri del del bulk bing eccetera che potrebbero dare una mano come noi siamo riusciti a fare un wormhole per gli esseri che vivono in un universo a due dimensioni e infatti invece di sfracellarsi comprimersi spagattificarsi e così via lui ovviamente sopravvive e va in questa moltitudine di quadrati che mima un tesseract per vedere quello che è successo che cos'è il tesseract diamo un punto gli facciamo fare un segmento a questo segmento lo trasliamo per una lunghezza che è uguale alla lunghezza del segmento e quindi abbiamo un quadrato a questo quadrato che è un tesseract in due dimensioni facciamo uno spostamento che è uguale alla lunghezza del lato e abbiamo un cubo in tre dimensioni adesso prendiamo il cubo lo facciamo spostare di una lunghezza che è uguale al lato nella quarta dimensione finiscono i disegni miei avete quindi un tesseract è un cubo in quattro dimensioni quello che succederebbe se voi poteste spostare un cubo nella quarta e io è tutto quello che posso dirvi non si può immaginare vi dico solo che nel film le riprese sono state fatte non ricreando chissà cosa computer grafica ma hanno hanno appeso alle bretelle Cooper hanno ricreato la stanza di sua figlia e lui vede sua figlia quindi a lui arrivano le onde elettromagnetiche di prima che partisse quindi vede il suo passato perché le onde elettromagnetiche possono arrivare lì ma ovviamente lui non può parlare o mandare un segnale a sua figlia lui si trova in una situazione intermedia nel film non si capisce lui lo dice ma annuncio difficilissimo capirlo lui si trova in una situazione di ponte tra le tre dimensioni e le quattro dimensioni queste sono è l'analogo dei fogli di prima questa è la lavagna che vedrete nel film i disegni sono tutti e le formule sono tutte di mano di Kip Thor per pezzo però le fate lui e avete questi due se volete universi simboleggiati qui in due dimensioni e avete come vi ho detto che anche se le onde elettromagnetiche e le altre forze non possono propagarsi tra i due universi la gravità può e Cooper che è il protagonista Matthew McConaughey l'attore si trova lì in mezzo chi l'ha messo lì gli dei della quarta dimensione quindi lui deve comunicare alla figlia che è lì e che ha appena avuto dal robot suo compagno di viaggio che ha captato nell'aria le equazioni della quantum gravity della gravità quantistica e le trasmette prima trasmette le coordinate della NASA dove lui stesso perché lui si vede più due anni più giovane eccetera dovrà andare le trasmette sotto forma di alfabeto morse spostando i libri in quantità tale da riprodurre spazio linea punto e così via e poi si ricorda che ha regalato un orologio alla figlia prima di partire e quindi codifica tutte le informazioni della meccanica quantistica dentro il ticchettio irregolare dell'orologio e ovviamente la figlia che non è più così giovane sono passati gli anni eccetera è lì e lo scopre al momento giusto ma c'è d'altra parte nei film non è che la bomba scopre un quarto d'ora prima scopre sempre a zero zero no quindi non è questo questo però produce un paradosso il paradosso è che Cooper si trova da qualche parte nel tempo e qui nel Tesseract vede se stesso più giovane e la figlia più giovane di anni prima no e comunica con lei e dà le coordinate della NASA quando lui era già là e dà le informazioni della gravità quantistica nel passato questo viene chiamato da me il paradosso di Picasso perché se noi adesso mettiamo la macchina del tempo e ci prendiamo il catalogo delle opere di Picasso e viaggiamo nel andiamo nel 1887 supposto che la macchina del tempo fosse stata costruita ma questo è un altro problema no andiamo a Malaga quando Picasso a sei anni gli diamo il catalogo e dice dai un occhio ah Picasso fino a quel momento non ne aveva la minima idea di diventare pittore eccetera no voleva fare l'astronauta e però dopo dice ma guarda no che carini copiamoli e diventa Picasso da dove nasce la creatività da dove nasce l'informazione chi ha inventato le formule per la gravità quantistica la figlia di Cooper no perché le ha ricevute da 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 suo papà ma questi esseri come si capisce si intracapisce nel film non sono altro che noi evoluti dopo migliaia di anni e loro quindi questi esseri sanno le formule della gravità quantistica perché le ha trovate la figlia ma la figlia le ha trovate perché le ha date loro le ha date loro grazie c'è un rimedio a questo paradosso ma abbandoniamo la logica e dobbiamo assumere che la magia esiste è una magia strana però perché se queste cose sono possibili il tempo perde il significato quindi non è una trasmissione di alcunché trasmissione vuol dire c'è dentro il tempo insomma le cose ci sono sempre state noi vecchi noi morti noi prima di nascere noi appena nati noi morti sono eventi che ci sono già se il tempo non c'è sono tutti fotogrammi già esistenti quindi che compaia qualcosa in un fotogramma improvvisamente leggi della meccanica quantistica quadro di Picasso eccetera forse fa meno effetto però comunque un po' di effetto lo fa finisco con la parte romantica del film questo è la aspetta non è questa qui la parte romantica allora il qui avete che il viaggio dura parecchio come misurato da un osservatore a terra come misurato dalla figlia di Cooper allora i primi due anni sono due anni uguali dappertutto perché è il viaggio che occorre il tempo che occorre per andare a Saturno loro si addormentano lo chiamano criosonno e quindi non praticamente non invecchiano si svegliano nei prezzi di Saturno poi vanno sul pianeta di Miller dove un'ora uguale a sette anni devono aspettare che il motore si asciughi perché l'andata l'ha bagnato questo gli fa perdere sono là che fremono perché dicono sette anni invece è un'ora e poi c'è il grosso salto di lui che va dentro gargantua e si fa tutto un altro giro e questo corrisponde a sessantasette anni più ventitré novanta più due novantadue quindi Cooper ha due anni in più la figlia di Cooper ha novantadue anni in più quindi una vecchietta di cento anni poi gli esseri del Bing del bulk degli dei della quinta dimensione fanno in modo di riportare Cooper questo non non viene descritto nel libro il perché e il per come nella stazione orbitale che sta lasciando la Terra dove la figlia di Cooper è stata trasportata la stazione si chiama in onore suo a stazione Cooper perché è l'eroina mondiale perché ha salvato l'umanità trovando le leggi della quantum gravity quindi quando Cooper parte la sua figlia è una bambina molto intelligente molto bella devo dire anche e c'è questa scena straziante dove lui le regala l'orologio e le dice guarda l'orologio perché è tutto simbolico ovviamente no? e invece nelle ultime scene del film c'è l'incontro successivo Cooper vedete non è invecchiato ma questa è sua figlia è un'immagine sia simbolica sia del film eccetera ma iconica e a me è la cosa che probabilmente è piaciuta di più in questo film perché tutte le volte che andrò a spiegare la relatività generale ristretta il tempo scorre diversamente eccetera dirò avete visto Interstellar vi ricordate lui che incontra sua figlia che è più vecchia di lui ecco e questo è vero cioè questo non è non è speculation non è educated guess questo è un fatto vero grazie grazie Gabriele sei stato davvero eccezionale e quindi adesso chiediamo al nostro angelo lassù di iniziare a proiettarci Interstellar buona visione e grazie a tutti grazie grazie a tutti